Oh, ma brutta faccia di cane, sei ancora qui? Complimenti! Ma non l'avevi chiusa Chiaventinello? Sì, sono uscita passando dal caminetto. Ma guarda, come la befana! Sì, l'ho incontrata che scendeva infatti. Forte, forte, vostra sorella è forte. Sai fare altro carina oltre a... Ah sì, però poi dopo dovete cambiare aria alla stanza. Scusa, lei è nata cretina. Nostra sorella è uno scarto del mondo. Ma perché non te ne sei andata un po' a Sanremo giovani, che così ti toglievi dai piedini, eh? Che sei strasquisitissima. Io di cantare me ne frego. Pierina. Me ne sbatto le cimi di rapa di cantare. Beh, a Sanremo giovani fanno la gara dei ruti, sai? Oh, prima, prima, arrivavo prima, peccato, peccato. Ma chi è che presentava Orietta Berti? Non la conosco, è brava? Eh beh, sì, lo è stata molto, adesso non è che... Non ruta più, no? No, è smesso. Eh, sono sempre le migliori che se ne vanno. Chi gareggia? Non so, cara. L'anno scorso c'è andata Carmen Cosi. Ah. Che praticamente canta ruttando. E adesso è in cima a tutte le classifiche. Ah, la conosco. È quella che fa... Sei bellissima! Eh sì. Ecco, cinque secondi per noi. Schisa! Grazie. Grazie.